Ciao sono Simone e ti do il benvenuto in questo nuovo appuntamento in cui parleremo di Louis Balz, un fotografo assolutamente visionario che ha influenzato infatti molti artisti e ha contribuito a ridefinire il concetto di paesaggio urbano nella fotografia contemporanea. Il suo approccio oggettivo e distaccato ha infatti spinto gli spettatori a riflettere sulle conseguenze dell'urbanizzazione e della globalizzazione architettonica e quindi sulla parietà di identità nei paesaggi moderni. Balz è un fotografo americano nato il 12 settembre 1945 a Newport Beach, California e purtroppo deceduto il 22 novembre 2014 a Parigi lasciando ovviamente un grande vuoto nella fotografia contemporanea. Questo artista infatti è considerato uno dei protagonisti del famoso movimento New Topographics, un'importante corrente fotografica che negli anni 70 si concentrava sulla rappresentazione di passaggi urbani e suburbani. Andiamo quindi subito a scoprire la vita e lo stile di questo grande fotografo. Prima permettimi solo di ricordarti di iscriverti al nostro canale e di attivare la campanella per non perdere i prossimi aggiornamenti. A differenza di molti altri famosi fotografi Balz ha sviluppato fin da giovane un interesse per l'arte e per la fotografia. Dopo aver frequentato il San Francisco Art Institute e la Claremont Graduate School ha iniziato la sua carriera fotografica negli anni 60, proprio quando la fotografia stava vivendo una vera trasformazione proprio radicale come mezzo espressivo. Negli anni 70 ha iniziato a ottenere i primi riconoscimenti per il suo lavoro che si distingueva appunto per l'approccio distaccato e oggettivo della fotografia di paesaggi urbani e industriali. La sua serie probabilmente più famosa è stata realizzata nel 1974 ed è intitolata New Industrial Park near Irving, California. Una serie che ha attirato l'attenzione sulla trasformazione del paesaggio urbano e sulla sua omologazione in seguito alla rapida espansione delle aree metropolitane. Attraverso le sue fotografie Balz ha messo in evidenza la distruzione del paesaggio naturale e la sua sostituzione con edifici industriali e infrastrutture impersonali, esplorando così i temi dell'alienazione, dell'anonimato e sottolineando soprattutto la parita dell'identità e della storia in favore di un'architettura standardizzata. Anche le serie successive, Park City nel 1980 e Candlestick Point nel 1989, hanno proseguito la sua esplorazione dei paesaggi urbani, concentrandosi sulle aree residenziali e commerciali degli Stati Uniti. Queste serie hanno continuato a evidenziare l'omologazione delle strutture urbane e a mettere in discussione la relazione tra l'uomo e l'ambiente che ha costruito. Oltre ai paesaggi urbani Balz ha anche esplorato il tema dell'architettura industriale e commerciale, per esempio la sua serie The Tract Houses, sviluppata tra 1971 e 1973, ha documentato le case prefabricate in una serie di immagini che mostravano la monotonia e la mancanza di personalità di questi insediamenti suburbani. La fotografia di Balz è stata comunque esposta in numerose mosse internazionali e le sue opere sono ovviamente presenti in collezioni di fotografia in tutto il mondo, dal museo di New York al Centre Pompidou di Parigi o a Londra e ha vinto inoltre numerosi premi come nel 1991 dove ha ricevuto una bolsa di studio direttamente dal Guggenheim. La sua morte, infatti nel 2014, ha lasciato un grande vuoto nel mondo dell'arte anche se il suo lavoro continua a ispirare e influenzare generazioni di fotografi, artisti o appassionati. Lewis Balz sarà sicuramente ricordato come un maestro della fotografia contemporanea e soprattutto come un interprete straordinario del paesaggio urbano e della condizione umana e sicuramente la sua influenza si estende oltre i confini dell'arte visiva influenzando anche dell'urbanistica, l'architettura e anche la sociologia. Il suo lavoro ha infatti sollevato importanti domande sulla nostra relazione con il mondo costruito e sulla nostra identità all'interno di questi ambienti. Le sue fotografie ci invitano infatti a guardare oltre l'apparenza superficiale dei paesaggi urbani e a riflettere sulle complesse dinamiche sociali e culturali che si instaurano. Le sue immagini ci spingono così a esplorare i nostri paesaggi urbani con uno sguardo critico e a riflettere sulle conseguenze delle nostre azioni e decisioni. Dopo aver parlato grandi linee della vita di questo fotografo esaminiamo meglio il suo stile fotografico. Come abbiamo detto lo stile di Luis Balz è caratterizzato da un approccio oggettivo e distaccato alla fotografia che si concentra più sulla documentazione e sulla critica sociale attraverso l'immagine. Una delle caratteristiche distintive dello stile di questo fotografo è sicuramente la sua attenzione per i dettagli e per le strutture geometriche presenti nel paesaggio. Le sue fotografie sono infatti spesso composte in modo preciso e simmetrico con una grande cura per le linee, le forme e i contrasti. Questo approccio formale conferisce sicuramente alle sue immagini un senso di ordine e precisione ma allo stesso tempo pone l'accento sulla monotonia e la ripetitività delle strutture urbane. Inoltre il linguaggio visivo di Balz si basa sull'uso della prospettiva e delle linee geometriche. Le sue immagini sono spesso caratterizzate da inquadrature strette e angoli molto insoliti che enfatizzano appunto la struttura e la forma degli oggetti fotografati. Come spesso avviene nella fotografia di paesaggio, le linee orizzontali e verticali sono spesso utilizzate per creare una composizione equilibrata e armoniosa mentre le linee diagonali vengono usate da questo artista per introdurre un senso di dinamicità all'interno della scena. Balz ha scelto di fotografare principalmente aree industriali, periferiche e marginali che spesso venivano trascurate o considerate poco interessanti. Ma nonostante questo è riuscito ad arrivare nella bellezza e l'alineazione presenti in questi spazi trascurati. Le sue immagini mostrano così sia la presenza dell'uomo e il suo impatto sul paesaggio ma allo stesso tempo mettono in evidenza la sua assenza e la sua lineazione. Un'altra caratteristica molto comune nella fotografia di Balz è la presenza di una luce uniforme piatta che contribuisce a enfatizzare la struttura e la forma appunto degli oggetti fotografati. Inoltre utilizzando particolari tecniche di stampa le sue fotografie spesso sembrano prive di profondità e soprattutto di sfumature tonali e questo contribuisce appunto a creare una sensazione di estranità e di stacco mettendo in risalto l'aspetto anonimo e impersonale delle aree urbane. Le immagini di Balz inoltre sono spesso prive della presenza umana diretta ma contengono ovviamente indizi della sua esistenza attraverso elementi come tracce di costruzioni, oggetti abbandonati e anche questo approccio invita lo spettatore a riflettere sulla relazione tra l'uomo e l'ambiente costruito suggerendo una sensazione di estraneità e separazione. Balz utilizzava una fotografia di grande formato, le sue immagini sono nitide e ben definite con una profondità di campo estesa che permette di esplorare ogni angolo della scena. Questo stile di fotografia dettagliata contribuisce così a rivelare i tratti caratteristici degli ambienti urbani e industriali mettendo così in evidenza la complessità e la stratificazione delle strutture. Un altro aspetto sicuramente rilevante dello stile di Balz è il suo approccio seriale. Ha spesso lavorato su progetti che consistevano in una serie di immagini che esploravano una specifica tematica o un specifico luogo e questo gli ha permesso di esaminare i dettagli e le variazioni all'interno di un determinato contesto creando così una narrazione visiva molto più ampia. Balz ha inoltre sperimentato l'uso del colore nelle sue fotografie sebbene sia maggiormente noto per il suo lavoro in bianco e nero e quando ha utilizzato il colore lo ha fatto in modo ovviamente sottile e molto discreto conferendo le sue immagini una tonalità neutra ed esaturata. Anche questo approccio ovviamente contribuisce a creare un senso di freddezza e di stacco, sottolineando ulteriormente la natura impersonale degli ambienti rappresentati. Si tratta quindi sicuramente di un grande fotografo e il cui lavoro ha avuto un impatto significativo sul campo della fotografia contemporanea e in particolare sul campo della fotografia urbana. Come al solito spero che questo contenuto ti sia piaciuto nel caso lascia un like per supportarmi e ci vediamo nei prossimi appuntamenti.